ciao buongiorno bentornati sul mio canale come promesso parliamo di anti age parliamo di collo ci focalizziamo su collo su contorno occhi e poi magari in altri video ne parleremo ancora insomma sapete che sono argomenti che mi stanno molto a cuore quindi iniziamo la prima sigla allora iniziamo quindi con il video prima vi ricordo di iscrivervi al mio canale vi lascio qua sotto trovate il link mi raccomando attivate la campanella sempre per poi ricevere tutte le notifiche di tutte le uscite dei miei video e lasciate un like ora parliamo di anti age e lo facciamo parlando di zone che sono sicuramente le zone più che dimostrano l'avanzare delle età e sono sicuramente la zona contorno occhi questo lo abbiamo già detto tante volte vi lascerò dei video qui io li lascio se il metto sempre poi a volte non so come mai non non compaiono ecco quando vi dico trovate il video qui io lo inserisco sempre però non so come mai youtube a volte non li mette non questo è un mistero ma comunque vediamo se questa volta youtube collabora e quindi ho parlato tante volte di antietà di anti age di prodotti contorno occhi prodotti collo no perché devo dire la verità li utilizzo da meno tempo mentre contorno occhi in stato utilizzarlo intorno ai ma non prestissimo anche quello è però dunque 30 sui 30 anni circa 30 33 più o meno con assiduità intendo dire e anche la crema contorno occhi ahimè dimostra i segni dell'età che avanzano dei segni del tempo quindi abbiamo detto che non ha contorno occhi c'è crema zona contorno occhi anche per il labiale soprattutto se uno fuma ma non è solo quello ovviamente io per ora tutto abbastanza bene come sia per la zona contorno occhi vi ricordo che comunque i prossimi sono 50 e sono sicuramente molto fortunata perché di mezzo c'è sempre la genetica non dimentichiamocelo mai conta molto però insomma ecco contorno occhi per il labiale e fondamentalmente il collo decolletè poi aggiungerei anche le mani è un altro segno un altro segno un'altra zona volevo dire da curare sono le mani ma magari ne parleremo un'altra volta ora ci concentriamo su una finestra aperta si sentono dei rumori e ci concentriamo su questi aspetti allora da dove parto ho chiuso un po di prodotti ma pochi è rispetto al solito sono sincera non vi voglio parlare di centomila prodotti ma direi partire da parto sicuramente da questa linea che sapete sto amando tanto 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 che è in im 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 come dir si voglia e è una linea a mio avviso eccellente di grande qualità pur avendo un costo basso perché sappiamo che ormai tanti la cosmetica ma parliamo anche di tanti altri prodotti che avrete parleremo un po di low cost medium cost qualcosa di high end insomma un po di tutto in questo caso abbiamo il siero con tornocchi che mi piace da morire che ha un'azione levigante ottimo e sono in vetro queste confezioni le trovate su amazon vi lascio qua sotto tutto tutto ciò di cui vi parlo è un siero trasparente molto leggero che però vi dico la verità non è acqua fresca come tante volte vi ho detto di alcuni prodotti che magari nel corso del tempo bocciato ha un'azione meravigliosa a un'azione levigante ovviamente contiene acido ialuronico ora poi vi racconto meglio nel dettaglio e poi abbiamo la crema contorno occhi eccola qua questa è la anti aging eye cream ci leggo anche linci vi racconto un po tutto ed è fatta in questo modo e questa è proprio una crema che mi piace tantissimo soprattutto per anche al mattino ma soprattutto alla sera è una crema non pesante ma comunque è abbastanza ricca come gli applico applico due o tre gocce di siero per occhio lo vado quindi a picchiettare con delicatezza e poi applico successivamente la crema al mattino a volte mi basta anche solo il siero e vi dico la verità alla sera sicuramente insieme contengono acido ialuronico che va a stimolare il collagene quindi l'utilizzo costante di questi due prodotti io lo sto vedendo perché ce li ho già da parecchio hanno decisamente migliorato la zona pericolare quindi primi due prodotti poi andiamo avanti con un kit questo è l'anti aging luxurious solutions che mi hanno inviato e questo è il perfect kit for anti aging skin care e abbiamo all'interno la crema contorno occhi anti age abbiamo la crema viso di cui vi ho già parlato e la crema collo ora ci focalizziamo sulla crema collo quindi abbiamo la crema viso la crema collo la crema viso scusate la che va con tornocchi è un bellissimo kit che vi fa risparmiare un sacco vi lascio il link qua sotto e poi abbiamo come vi dicevo la crema collo e decoltè ora io questa non l'ho aperta e ve lo dico con molta franchezza perché ovviamente ho già quella che ho in uso che sono infatti uguali quindi questa è quella nuova non mi confondo e sto infatti utilizzando tutte le mattine dopo la doccia in realtà sarebbe meglio applicarla crema collo e decoltè due volte al giorno mattino e sera ma io vi dico la verità cioè non che alla sera non lo potrei anche applicare alla sera per ovviamente faccio skin care però proprio vi prendo cura di questa zona bene solo al mattino dopo la doccia quando sono ancora in accappatoio e mi piace tantissimo ha una texture molto fondente però poi vi racconto anche che cosa contiene e proprio dopo la doccia con la pelle ancora un po forse inumidita e calda insomma si scioglie faccio un bel effetto un bel massaggio sul decoltè e sul sul collo e mi piace tantissimo questa è la texture ve la faccio vedere è molto piacevole da utilizzare si assorbe molto molto bene facendo anche un bel un bel massaggio quindi in modo tale che penetri molto bene ha un'azione rassodante ora vi dico bene che cosa contiene e ho letto qui la quello che c'è scritto allora questa crema idratante anti età funziona perfettamente per rassodare ingiovanire la pelle del collo e del decoltè fornisce quindi una rapida idratazione fortifica la barriera idratante essenziale della pelle ripristina la rigenerazione del tessuto cutaneo contiene oligo peptide 1 oligo peptide 2 oligo peptide 5 ok gli oligo peptidi sono una piccola molecola di catene di aminoacidi e sono i mattoni della protezione della pelle ecco sono in grado di penetrare in profondità e di migliorare elasticità della pelle in questo caso decoltè e collo ma ho letto anche che hanno una formula anche che ha un'azione schiarente soprattutto magari per chi ha già un'età un po' maggiore super idratante e schiarente antiossidante auto rigenerante che può inibire la produzione di melanina aumentando quindi il rinnovamento cellulare questa crema collo e decoltè mi sta piacendo tanto proprio un'azione sicuramente rassodante e lo sto proprio notando giorno dopo giorno lo applico generosamente sul decoltè e sul collo e questo è il kit che sono qui appunto a consigliarvi che vi fa sicuramente risparmiare perché acquistate tre prodotti che sono dei must have assoluti questa crema collo e decoltè è pazzesca a parte bellissimo anche il packaging questo l'ho presa da bio vita lo conoscerete sicuramente è stra famoso la linea si chiama so sul eccolo e è una crema molto più leggera rispetto all'altra come texture ma comunque sempre virtuosa e soprattutto la vi racconto che cosa contiene perché è molto molto interessante vi fa capire quanto possa essere efficace questa crema collo e decoltè appunto che ha un costo di scontato 34,99 attualmente sul sito sto guardando proprio la pagina dedicata e contiene il 5 per cento dell'estratto del fungo sang weng altamente concentrato e vari erbe medici medicinali naturali ha una capacità di nutrimento di rassodamento incredibile è proprio altamente concentrata quindi dovete applicare anche poca non c'è bisogno che idrata la pelle cancella o comunque migliora ecco le rughe presenti sottili sia del collo ma anche delle del decoltè e lascia proprio la pelle bella morbida quindi a questo fungo un estratto di questo fungo molto molto particolare vi lascio ovviamente qua sotto il link per se la volete comprare sappiate che appunto è rivenduta da bio vita e penso che sia una loro linea interna però ora non vorrei dire una cosa per un'altra e anche questa devo dire mi piace tantissimo un'altra crema collo e decoltè che mi sta piacendo tantissimo che sto utilizzando già da più o meno quest'estate ecco diciamo così è questa di medena farm non so se ne avete sentito parlare di questo brand sto usando anche il siero antivacche che devo dire funziona alla grande perché una pelle dopo aver preso anche il sole insomma perfetta pressoché perfetta allora questa si chiama appunto collo e decoltè questa ha un costo forse un po più elevato rispetto a quelle che di cui vi ho parlato ma merita tantissimo ora vi vi leggo che cosa contiene però poi vi faccio vedere anche la texture e tutto quanto alla capacità duplice a una doppia azione infatti quella di come ristrutturante ma anche per come illumina cioè illumina la pelle del collo del decoltè che potrebbe subire no danni quindi macchie magari per un'età un po più avanzato ora vi dico che cosa contiene perché è molto interessante tra le varie cose leggo buro di karité poi andiamo alle cose più succulente acido ialuronico arginina ginseng collagene idrolizzato elastina tocoferolo ceramidi comuni comunque a un inci vi lascio il link così potete andare anche a vedere voi perché era solo la scatola scatola mi sa che non ce l'ho più la confezione e questo è questa è una crema che si utilizza in questo modo premendo dai lati fuoriesce il prodotto col qua e questa dose va più che bene per collo e decoltè ok quindi ne va a migliorare l'elasticità che quella che poi noi ahimè perdiamo con l'andare del tempo adesso me la vado a spalmare cercando di non sporcarmi e vi consiglio anche di provare la maschera dell'erboristica collo e decoltè in realtà il viso e decoltè va beh a un'azione rassodante e detox questa la trovate un po nella grande distribuzione l'ho già utilizzata come vedete mi è piaciuto molto a un'azione un po più compattante un'azione si detox rassodante mi è piaciuta e contiene argilla nera miele per il viso invece non l'ho non l'ho utilizzata e contiene carbone vegetale e quindi ve la suggerisco per quanto riguarda invece la zona perioculare parliamo di crema con tornocchi anti e parliamo di love care con la miscela peptidica con tornocchi eccola qui ho ritrovato la sua scatolina che io le tengo e è stupenda questa in particolare ripara i molteplici segni di invecchiamento quindi con tornocchi rughe linee sottili poi migliora la compattezza della pelle la texture ravviva lo sguardo eccetera eccetera ovviamente contiene i peptidi tiene tutti i peptidi spero vediatevi li metto qua così li potete vedere quindi pur costando poco questo è una crema con tornocchi assolutamente da avere e io assolutamente ve la consiglio ne sono follemente innamorata e l'applico fondamentalmente alla sera mi lascia uno sguardo se volevo dire una zona insomma la zona al mattino quando mi sveglio migliorata sicuramente migliora tantissimo con l'utilizzo costante il contorno occhi e quindi assolutamente consigliata poi vi consiglio questa che sto per terminare di ele miss che adoro che della pro collagen ai reviver mask quindi sia maschera che crema con tornocchi ha una texture particolarissima ve l'ho sempre detto che alcuni forse non piace non riesco a dirla e io l'ho utilizzata sia come maschera che come crema con tornocchi come vedete non ce n'è quasi più e l'ho amata tantissimo ha decisamente migliorato la dico che elimina completamente nessun prodotto elimina completamente le rughe ma le migliora quanto meno le migliora stimolando la produzione di collagene di elastina eccetera eccetera in questo caso appunto la pro collagen il nome non è a caso poi altro prodotto invece lo cost questo è questo di sephora che all'inizio non mi ha rubato il cuore continuava a prediligere quell'altra versione che sapete che ho comprato un sacco di volte invece adesso mi ha conquistato questo è la forming eye cream di sephora che ha un'azione rassodante anche questa mi piace tanto ha una texture compatta se l'avete provata lo saprete e anche questa devo dire che fa davvero quello che promette a un piccolo costo poi ne abbiamo altre stupenda questa di sephora veramente stupenda assolutamente questa biologica per chi ha appassionato come me anche di biologico di biofficina toscana è la crema con tornocchi anti età e meravigliosa anti age questa è con tra l'altro è anche anti pollution perché sappiamo che ovviamente inquinamento chi vive in una grande città ha bisogno anche di questi prodotti nel pomodoro biotoscano che la voglio usate ve la voglio assolutamente consigliare sia per il piccolo costo sia per l'efficacia che io ho notato nel tempo e quindi mi raccomando provatela poi non posso non citare bio file che mi ha rubato il cuore questo è un siero che basta anche da solo per la zona perioculare minima il botulino questo è il perfect eye serum e a tutta una ricerca incredibile un'azienda italiana che merita tantissimo merita di essere conosciuta anche magico che di questo ve ne ho già parlato parecchio concludo con due prodotti che amo follemente sono della stessa linea che la super multi core active in questo caso abbiamo serum e cream sto parlando di kios allora questa è la eye opening quando voi utilizzate vi rendete conto che avete l'occhio più aperto questo è il siro è che si fa dei prodotti di una qualità eccelsa e di prodotto sembra che ci sia poco ma poi alla fine ce n'è sono 15 ml lo passate così l'andata e vedete subito l'occhio più aperto e poi andate applicare la crema contorno occhi favolosa questa è una novità abbastanza recente di kios e sono già metà favoloso anche questo assolutamente da provare torneremo sicuramente a parlare dell'argomento perché sapete che sono un po i miei argomenti preferiti intanto vi ricordo ecco di lasciarmi un commento qua sotto fatemi un po sapere voi cosa state utilizzando se avete qualche prodotto che avete scoperto che vi piace particolarmente e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao